Oggi parliamo di Poste Mobile, un operatore mobile decisamente sottovalutato ma con alcune caratteristiche molto interessanti E' un operatore virtuale, vabbè lo dice la parola stessa di Poste, del gruppo Poste Italiani che oltre a spedire lettere, pacchi e fare fibra fa anche offerte mobile ma da moltissimo tempo, forse è uno degli operatori mobile più longevi che si affida su rete Vodafone Attenzione perché fino a metà 2021 era su rete WIND e secondo me questo è proprio la chiave per cui è sempre stato così tanto sottovalutato Di operatori mobile su rete WIND ce ne sono tantissimi con offerte anche molto più convenienti rispetto a quelle di Poste Mobile Il passaggio alla rete Vodafone secondo me ha portato quella marcia in più perché le offerte sono rilevate molto convenienti in relazione alla rete di appoggio Secondo me è una delle reti migliori quella Vodafone almeno secondo la mia esperienza che con queste SIM di Poste Mobile in 4G Plus Permette di raggiungere fino a 300 Mbps per secondo, non c'è nessun limite di velocità Qualche caratteristica tecnica c'è il VoLTE, quindi senza entrare troppo nei dettagli Quella tecnologia che permette di effettuare chiamate sulla rete dati aumentando così la qualità delle chiamate E permette di utilizzare internet anche durante le chiamate vai approfonditi se volete sapere cos'è il VoLTE C'è su Poste Mobile ma solamente con alcuni smartphone certificati che sono un po' pochini Ma secondo alcune testimonianze che ho letto in giro non sembra funzionare così bene Quindi speriamo che possa aumentare in premis la compatibilità che in teoria è universale Stratta semplicemente di sbloccarla per ogni singolo smartphone ma soprattutto la qualità di questo VoLTE Non è comunque un fatto così grave perché Iliad, uno dei più grandi, uno dei principali operatori utilizzati in Italia Non ce l'ha proprio Ovviamente c'è il roaming e in 4G addirittura ho letto delle testimonianze che in alcuni casi va anche in 5G Su alcune reti estere, non ho un feedback diretto perché ce l'ho solamente da qualche mese Ma secondo alcune testimonianze anche questo non sembra proprio essere il top Soprattutto ho letto la mente del fatto della lentezza della connessione alla rete estera Ma veniamo alle offerte che generalmente sono abbastanza convenienti e soprattutto senza vincoli di portabilità Quindi non ha come ad esempio Barry o Homemobile quelle offerte solo se fai la portabilità da Iliad Solo se la fai da Vodafone o in the team No, offerte per tutti, nuovi numeri e portabilità A 4€ vi danno 20GB con chiamate e sms a consumo A 4,99€ vi danno sempre 20GB ma con tutto Il limitato è necessario per un contributo di 10€ di attivazione A 6,99€ troviamo 50GB con tutto il limitato e attivazione gratuita A 9,99€ 150GB con tutto il limitato e attivazione gratuita E a 8,99€ 300GB ma senza chiamate Quindi un'offerta solo dati che è in promozione in questo periodo Ci sono anche delle offerte che possono essere interessanti senza canone mensile Ma solamente a consumo con utile magari per chi proprio ha bisogno di una sim ma fa pochissime chiamate Ci sono anche delle offerte solo internet ma non sono per niente convenienti Molto spesso però ci sono delle offerte a tempo Ve le trovate magari su pubblicità, su Instagram e varie Io per esempio ho fatto l'offerta da 4,99€ ma con 40GB E devo dire che è stato un affarone perché non se ne trovano le offerte così economiche E comunque un numero discreto di giga che per un utilizzo base va più che bene Ecco 20GB sono un po' risicati Quindi se trovate un'offerta lampo come questa che durava tipo 5 giorni a 40GB fate veramente un affarone Insomma è uno di quei operatori da tenere d'occhio con le varie offerte che fa E magari approfittarne per fare la portabilità al nostro attuale operatore Magari scappare dagli altissimi prezzi, dalle vecchissime offerte che avete di Vodafone, Team e Win Perché comunque anche tralasciando quella di 4,99€ 7€ al mese per 50GB non è niente male 9,99€ al mese per 150GB è un pochino tanto Alcuni operatori come Vodafone a 9,99€ danno giga illimitati Quindi insomma punta un pochino più alle offerte low cost questo operatore Piccola parentesi legata alla rete di appoggio che è un criterio fondamentale nella scelta dell'operatore Se da voi Vodafone fa schifo non scegliete poste mobile Perché se poi poste mobile farà schifo non date la colpa poste mobile È di base la rete Vodafone che fa schifo nella vostra zona Se c'è discorso non so al contrario con Veri Mobile che è su rete Wind Io per esempio non ho mai avuto problemi in rete Vodafone Ho sempre avuto Vodafone poi ho dovuto cambiare il numero per vari magheggi strani E mi sono sempre trovato bene con Vodafone e mi trovo bene anche oggi con poste a livello di velocità In media all'aperto negli speed test faccio sempre un'ottantina di megabits In download se ho la BTS a favore La BTS sarebbe l'antenna Ho visto anche dei picchi di 150 MB Quindi insomma niente male Insomma se state pensando di passare da Wind Team a poste mobile Magari prima andate a controllare col telefono di qualche amico parente Com'è la rete Vodafone della zona Per quindi andare a capire se è un passaggio oltre che conveniente a livello economico Anche a livello di prestazioni della rete Che comunque vi ricordo essere influenzate molto anche dal telefono che sta utilizzando I miei amici di Master Edition ha veramente un ottimo comparto Rete su un telefono di 5 anni fa Le prestazioni saranno ovviamente inferiori Insomma se un operatore fa schifo a livello di velocità Diciamocelo così Non è per sempre colpa dell'operatore Ma spesso anche della rete e dell'audio che utilizziamo L'attivazione si può fare tranquillamente online con la classica procedura Cosa che mi sarebbe piaciuta vedere è un'identificazione con lo speed Cioè posti fagli speed chi più integrata di lei può mettere lo speed Non c'è me lo sarei aspettato Però vabbè è la classica video identificazione Io sono Enrico, scelgo poste mobile Vi arriva la sim a casa E le tempische di spedizione, attivazione, portabilità Sono le solite di tutti gli operatori Altra critica che devo fare a livello diciamo di user experience È l'assenza di una registrazione all'area personale Io mi aspetto che mi vengano inviate delle credenziali Che durante la registrazione mi fai registrare appunto a un'area personale Invece no Solo successivamente bisogna fare una registrazione Con un account mai poste E da lì associare il numero di telefono di poste mobile Per poter gestire la sim Insomma non molto intuitivo L'assistenza non l'ho mai provata Meno male perché non ho mai avuto problemi Quindi da un lato è anche una cosa positiva Però c'è il classico call center O anche una chat sul sito Che può essere comoda Per chattare direttamente con un operatore Non ci sono bot strani tipo topi L'app per gestire il tutto È l'app poste pay Quindi la stessa per gestire una poste pay Se la avete Che non è proprio una bella cosa Perché vi trovate a gestire la sim Con un'app abbastanza pesante Sia in termini di mega occupati nel telefono Che forse però è il minore dei mali Ma anche proprio in termini di utilizzo Di funzioni La gestione della sim La vedete andando su prodotti E poi le tue sim Vedete il numero di telefono Il credito residuo Qua sotto tutti i vari contatori Che per carità sono anche abbastanza approfonditi Potete avere il dettaglio di tutto Il traffico utilizzato Insomma ci sono anche funzioni interessanti Volete gestire tutte le varie funzioni Relative alle chiamate Quindi segreteria eccetera Che vabbè non sono altro che Un rimando alla chiamata al codice Però vabbè comunque comodo Averli così a portata di mano Vabbè gestire tutti i vari servizi E soprattutto comodo questo Avere a portata di mano Il seriale della sim E mi raccomando Enrico censuralo nel video Perché se no sei fregato Per fare la ricarica Che è una delle cose più naturali Normali per utilizzare una sim Dovete andare su Paga Poi c'è sim poste mobile Ricarica Vi apre il browser In cui dovete rifare l'accesso E a questo punto vi trovate su questo sito Anni 90 Neanche responsive In cui potete finalmente fare Aiuto La ricarica Insomma un pochino troppo macchinoso Insomma A chi consiglio poste mobile Beh sicuramente A chi non ha bisogno Di molti giga Immagino il classico Italiano medio O un anziano Che ha bisogno magari Di 10 giga Ecco 5 euro al mese 20 giga È un'ottima offerta Su una rete Con discreta Copertura Per un uso più avanzato L'offerta da 7 euro 50 giga Non è niente male Ma sicuramente fate l'affaroni Se vi trovate un'offerta lampa Come la mia 4,99 40 giga Questo è veramente Un grandissimo affare Che non si trova Da nessun'altra parte Soprattutto su una rete del genere Perché volendo anche Veri Offre un piano simile Ma la rete è diversa E c'è un cap di velocità Non la consiglio Per fare la portabilità A chi ha già altri operatori virtuali Come Veri e O Perché a livello economico Danno così un occhio a volo Le offerte non sono così tanto convenienti La consiglio vivamente A chi vuole scappare Da Vodafone Team E E Win E dalle loro offerte Magari 12 euro al mese Per 5 giga Insomma Conoscete i vostri operatori Avete avuto esperienze Fatemi sapere tutto Qui sotto nei commenti E vi aspetto Al prossimo video Ciao Ciao